Legalità, democrazia e partecipazione costituiscono il triangolo del cambiamento, del progresso, dello sviluppo di una comunità. Ad affermarlo Guglielmo Minervini, assessore regionale alla trasparenza e alla cittadinanza attiva, intervenuto a Barletta ad un incontro organizzato dal PD. Al centro del dibattito, la cultura della legalità. Fra i partecipanti, Pina Marmo, candidata alla presidenza della BAT, Rosaria Capacchione, giornalista del mattino e autrice del libro L'Oro della Camorra, in corsa per il PD all'Europarlamento. Scardinare la cultura del silenzio è difficile, dice la Capacchione, ma non impossibile. Anche la narrativa e il linguaggio cinematografico possono contribuire, vedi Gomorra. La grande capacità di Roberto Saviano e poi del film è stata quella di far sapere a tutti cose che noi già sapevamo, solo che non riuscivano a passare attraverso le frontiere delle altre regioni, ritenendo appunto che non fosse un fatto che riguardasse gli altri. Per Pina Marmo la legalità non bisogna pretenderla dagli altri, la legalità è democrazia e lavoro per tutti, afferma. La legalità non è la clientela, la legalità non è dire ai giovani vieni con me perché ti do un posto, perché in questa maniera noi illudiamo e disilludiamo. La legalità è dire a quanti ci circondano, agli elettori e agli elettrici, che il tuo voto è prezioso e quindi vota con coscienza, con discernimento. Non votare coloro che ti comprano il voto, il filo rosso che accompagnerà ogni azione politica di questa provincia. Grazie. 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 Grazie.